Leonardo Fibonacci nacque a Pisa intorno al 1170. Il padre, Guglielmo Bonacci, era un mercante che commerciava con l'Africa settentrionale. Leonardo, quindi, ebbe l'opportunità di viaggiare molto fin da giovane e di conoscere la cultura e la matematica araba. Nel 1192, il padre di Fibonacci lo inviò in Algeria per lavorare nel suo ufficio commerciale. In Algeria, Fibonacci ebbe modo di studiare la matematica araba e di apprendere le cifre arabe e il sistema decimale. Nel 1202, Fibonacci tornò a Pisa e pubblicò il suo libro più famoso, Il Libera Baci. Il libro era un trattato di matematica che introdusse in Occidente le cifre arabe, il sistema decimale e le tecniche di calcolo arabo. Il Libera Baci ebbe un'enorme influenza sulla matematica occidentale e contribuì a diffondere la conoscenza della matematica araba in Europa. Nel 1220, Fibonacci pubblicò un altro libro importante, Il Practica Geometria. Il libro era un trattato di geometria che trattava di argomenti come la trigonometria, la quadratura del cerchio e la duplicazione del cubo. Fibonacci morì a Pisa intorno al 1240. Il suo lavoro ha avuto un'influenza profonda sullo sviluppo della matematica occidentale e continua ad essere, studiato e apprezzato ancora oggi. Viaggi I viaggi di Fibonacci furono fondamentali per la sua formazione matematica. In Algeria, ebbe modo di studiare la matematica araba e di apprendere le cifre arabe e il sistema decimale. Queste conoscenze gli permisero di scrivere il Libera Baci, che ebbe un'enorme influenza sulla matematica occidentale. Fibonacci viaggiò anche in altre parti del mondo arabo, come l'Egitto e la Siria. In questi viaggi, ebbe modo di conoscere altre culture e di ampliare le sue conoscenze matematiche. Contributi alla matematica I contributi di Fibonacci alla matematica sono molteplici e di grande rilevanza. Tra i suoi risultati più importanti si possono menzionare l'introduzione delle cifre arabe e del sistema decimale in Occidente. Lo sviluppo di nuove tecniche di calcolo, come ad esempio il metodo di eliminazione di Gauss. La scoperta della successione di Fibonacci La successione di Fibonacci è una sequenza di numeri in cui ogni termine, a parte i primi due, è la somma dei due che lo precedono là. Successione di Fibonacci si trova in natura in molti contesti diversi, come ad esempio nella disposizione dei petali dei fiori, delle squame dei pesci e delle spirali delle conchiglie. Fibonacci scoprì la successione di Fibonacci nel corso dei suoi studi sulla matematica araba. La sequenza è stata successivamente studiata da molti matematici e ha trovato applicazioni in diversi campi della matematica, come ad esempio la teoria dei numeri, la geometria e la teoria delle probabilità. Influenza di Fibonacci Il lavoro di Fibonacci ha avuto un'influenza profonda sullo sviluppo della matematica occidentale. I suoi contributi hanno contribuito a diffondere la conoscenza della matematica araba in Europa e hanno contribuito alla rinascita delle scienze esatte dopo la decadenza dell'età tardo-antica e dell'alto medioevo. Il lavoro di Fibonacci è ancora oggi studiato e apprezzato. La successione di Fibonacci, in particolare, è oggetto di studi e ricerche in diversi campi della matematica. La data e il luogo di morte di Fibonacci non sono certi. I documenti d'archivio più recenti che lo citano risalgono al 1240, quindi è probabile che sia morto in quell'anno o poco dopo. Il luogo più probabile della sua morte è Pisa, dove ha vissuto e lavorato per gran parte della sua vita. Tuttavia, alcuni storici hanno avanzato l'ipotesi che Fibonacci possa essere morto in un viaggio in Siria, dove si trovava nel 1242. In questo caso, la sua morte sarebbe avvenuta in quell'anno o poco dopo. In conclusione, la data e il luogo di morte di Fibonacci sono ancora oggetto di dibattito. Tuttavia, è probabile che sia morto tra il 1240 e il 1242, a Pisa o in Siria.